Si chiama Bartos Beresvinski ed è il nuovo giocatore dell'Empoli, questo club calcistico toscano per il Cirec. Si tratta di un terzino che negli ultimi mesi di tempo, gli ultimi sei, quindi per mezzo anno, è stato in prestito a Napoli, il club geleste per eccellenza. Arriva dunque il prestito con diritto di riscatto proprio dalla stampa, il club blu cerchiato per eccellenza, il club calcistico della regione Liguria. Beresvinski, il nuovo giocatore dell'Empoli, una novità importante che pone in maniera piuttosto invitante lo stesso club calcistico in questione.